SENSI Ci siamo! Sta per tornare il grande spettacolo della danza. Dopo il successo dello scorso anno dello spettacolo The Colors, gli allievi del Centro Coreografico di Danza di Montori Alvomano e di Studio 60 Spazio Danza di Teramo hanno il piacere di invitarvi alla diciottesima edizione del grande spettacolo della danza. SENSI Un nuovo emozionante spettacolo da non perdere, ideato e diretto dal maestro Massimiliano Lanti. Nella cornice del Teatro Comunale di Teramo, SENSI Uno spettacolo unico, ricco di tecnica, musica, emozioni. SENSI Giovedì 23 giugno alle ore 21 al Teatro Comunale di Teramo con ingresso libero. Nella cornice del Teatro Comunale di Teramo